Se io ho solo quattro zampe, come faccio a farle tutti? Aaron, ma cosa c'è che ti preoccupa? Adesso che uscirà il mio libro, dovrò fare tanti autografi. Come faccio? Ho solo quattro zampe. Mmm, ci penso io. Ho già un'idea bellissima, facciamo? Dei timbrini? Mmm, cioè? Ci serviranno la carta crepla, le forbici, una penna, la colla vinilica e dei tappi di bottiglia. La carta crepla è un materiale economico con cui possiamo fare tantissime cose. Ci servirà inoltre anche il tampone per timbri. Disegniamo sulla carta crepla le forme che vogliamo realizzare. Le ritagliamo e le incolliamo con la colla vinilica sui nostri tappi di plastica. Lasciamo asciugare. I nostri timbrini sono pronti. Proviamoli subito. E' bella questa idea. Così posso fare le mie zampette ovunque. Sì, riempirò la casa. Ops. Sì, riempirò la casa. Grazie a tutti.